La simulazione di questa battaglia sembra l'inizio di una grande ricerca di leggenda! È pericoloso camminare da sola! Prendi questa! Grazie! Ma so già che starò bene anche senza quel bastone! Ma sei da sola ed è pericoloso camminare da sola! Mi sembra che anche tu sia da solo! Beh, sì! È da molto tempo che non parlo con qualcuno! Veniva mia moglie prima che mi chiedesse il divorzio! È successo molti anni fa! Sono solo! Adesso io dovrei continuare la mia ricerca! Non preoccuparti per questo, vecchio! Sei giovane e hai delle cose da fare! Io rimango qui, triste e solo, con la spada che nessuno vuole! Immagino che tu possa venire con me! Lasciare la caverna? Sì! Certo! Perché non vieni insieme a me alla ricerca della leggenda, triste vecchio! Che bello! E mi porto la spada! Una spada di legno è del tutto inutile! Ma è meraviglioso! Sta' attenta, mia eroina! Sono creature molto pericolose! Me ne occupo io! Che male! Proteggimi tu da questa bestia feroce! Non mi sembra un animale cattivo, triste vecchio! Desidera solo una grattatina coccolosa! Gratta, 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 tutto il giorno, tutti i mesi! Sono adorabili! Calamaro terrestre, vuoi unirti a noi nella ricerca della leggenda? Che gioia! Calamaro terrestre, vuoi unirti a noi!